strage della lanterna azzurra con dane definitive per la banda dello spray latitante scappa sui tetti di urbino catturato dai carabinieri incendio nella notte a muraglia inagibile un appartamento l'alberghiero cucina il pranzo di natale per i poveri di pesaro alla scoperta del presepe meccanico di rio salso buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è martedì 13 dicembre apriamo questa edizione con la cronaca giudiziaria perché a quattro anni dalla strage della discoteca lanterna azzurra di corinaldo in cui morirono sei persone si è concluso il processo a carico dei componenti della cosiddetta banda dello spray con condanne definitive 12 anni e 6 mesi per ugo di puorto 12 anni e 5 mesi per raffaele mormone 11 anni 10 mesi per andrea cavallari 11 anni e 6 mesi per moe zacari 11 anni e 3 mesi per sua i baddada 10 anni e 9 mesi per badr amuia totale 70 anni di reclusione per i sei imputati della strage alla lanterna azzurra condannati in via definitiva per omicidio preterintenzionale associazione delinquere lesioni personali furto e rapina niente più appelli o ricorsi a quattro anni da quella tragedia assurda consumatasi nella discoteca di corinaldo durante la notte fra il 7 e l'8 dicembre 2018 in cui morirono sei persone e si contarono quasi 200 feriti ieri a Roma è arrivato l'ultimo giudizio della corte di Cassazione che non ha fatto sconti alla cosiddetta banda dello spray confermate tutte le pene ai sei ragazzi del modenese che spruzzando spray urticante ai fini di rapina fra la folla del concerto del rapper Sfera e Basta generarono una calca fuori controllo fra sembramenti all'uscita e crollo delle balaustre del locale morirono cinque giovanissimi fra i 14 e i 16 anni Emma Fabini e Daniele Pongetti di Senigallia Asia Nasoni di Marotta Mattia Orlandi di Frontone Benedetta Vitali di Fano con loro perse la vita anche la 39enne di Senigallia Eleonora Girolimini il gruppo criminale dei sei rapinatori seriali di età compresa fra i 23 e i 25 anni che con questo metodo faceva razzia di collanine d'oro è già in carcere dall'estate 2019 e ci resterà ancora per molti anni visto che ieri la Cassazione ha respinto tutti i ricorsi delle difese degli imputati soddisfatti i familiari delle vittime presenti in aula a Roma al momento della sentenza parti civili che chiuso il processo per la banda dello spray aspettano ora gli esiti del processo bis sul filone amministrativo riguardante la sicurezza del locale Ancora cronaca che arriva da Urbino dove i carabinieri hanno rintracciato un latitante condannato dallo stesso tribunale Urbinate a quattro anni di reclusione per reati riconducibili allo spazio di stupefacenti l'uomo di origine magrebina si era reso irreperibile da mesi e alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga correndo e saltando tra i tetti dei caseggiati di un complesso edilizio in zona Ponte Armellina dopo un racambolesco inseguimento è stato bloccato dai militari e trasferito al carcere di Pesaro C'è stato un incendio nella notte nel quartiere pesarese di Muraglia dove un'anziana residente al secondo piano di una palazzina di via Lombroso è stata svegliata dalle fiamme divampate all'interno della propria cucina per un sospetto cortocircuito i vigili del fuoco sono intervenuti alle 3.30 sedando il rogo le fiamme hanno però gravemente danneggiato l'abitazione per la quale è stata dichiarata l'inagibilità temporanea con l'anziana residente che è stata evacuata ed ora cambiamo argomento e passiamo ad una notizia che ci riconcilia con lo spirito natalizio e che arriva dall'istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro i cui studenti domani cucineranno un pranzo di Natale per i poveri della città pranzo che è stato finanziato da una raccolta fondi vediamo Siamo all'alberghiero Santa Marta di Pesaro nella sala del ristorante dell'istituto che ospita tantissimi incontri conviviali e domani mercoledì 14 dicembre ne ospiterà uno molto particolare un pranzo totalmente in linea a quello che è lo spirito natalizio Da alunni e docenti è nata questa voglia di aprirci alla comunità e di fare un gesto concreto simbolico e appunto questo di preparare un pranzo cucinare e servire un pranzo appunto il pranzo di domani che sarà diciamo aperto a 55 invitati in particolare a chi si rivolge a casa Tabanelli gestita dalla Caritas di Cisana di Pesaro e a casa Mariolino gestita appunto da volontari della città della gioia Questa iniziativa si intitola Progetto iCare iCook e diciamo è parte di un progetto molto più ampio un progetto che appunto iCare che serve per sensibilizzare i nostri studenti a problematiche attuali problematiche sociali come diciamo chi vive disagi di natura socio-economica alle persone che subiscono violenza ad esempio quindi tutta questa ampia gamma Santa Marta era questa persona che accoglieva Gesù a Betania perciò voglio sottolineare il fatto che Santa Marta accoglierà queste persone più bisognose ma ogni giorno noi accogliamo anche tutti gli alunni quelli più bisognosi anche quelli che magari spesso volentieri sono gli ultimi Siamo contenti di questa iniziativa anche perché abbiamo avviato una raccolta fondi sfruttandolo delle piattaforme online di crowdfunding quindi gli studenti hanno avuto anche modo di capire come funzionano oggi certe modalità per reperire finanziamenti per poter anche in futuro avviare un'attività in proprio e siamo molto soddisfatti della risposta della comunità perché abbiamo insomma ci siamo posti un obiettivo di 600 euro per insomma reperire le materie prime e tutto ciò che è necessario per il pranzo e ovviamente con l'eccesso anche poi fare una donazione diretta a queste associazioni e abbiamo raggiunto questo obiettivo quindi ringrazio nuovamente la comunità dunque il nostro motto è stato quello di si cucina sempre pensando a qualcuno altrimenti si sta solo preparando da mangiare Ed ora ci spostiamo a Vallefoglia dove comune Hauser e Accademia dei Belle Arti di Urbino lanciano un nuovo progetto dedicato alla formazione di lavoratori nei settori culturali e museali è un progetto che mette insieme i volontari di una rete di associazioni di volontariato del territorio e i ragazzi gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Urbino sono persone che vengono coinvolte per le loro competenze i volontari hanno una grande competenza nel campo del volontariato nel campo della gestione degli spazi della relazione con le persone del territorio i ragazzi dell'Accademia hanno delle grandissime competenze culturali e anche laboratoriali e quindi abbiamo pensato che era utile in questo territorio dove ci sono dei luoghi bellissimi non sempre aperti dei luoghi culturali che questi luoghi potessero non solo essere aperti ma diventare luoghi di benessere quindi sia biblioteche che musei sono per lo più luoghi museali e in questi luoghi però appunto non ci vogliono soltanto volontari che aprono e che chiudono ci vogliono persone competenti che possano pensare a delle attività e che possano accogliere al meglio le persone che decidono di frequentarlo e quindi ci vuole una formazione abbiamo chiamato dei grandi professionisti che fortunatamente hanno aderito a questo progetto e ci aiutano a realizzarlo quindi ci sono degli esperti di educazione museale come Marco Peri ci sono psicologi ci sono psicanalisti ci sono persone che effettivamente hanno fatto questo tipo di esperienza come caserma archeologica ad Arezzo un'occasione per noi di grande orgoglio e la partecipazione e l'aiuto che ci viene dato dal Welfare Cultural Center ce n'è uno solo in Italia presieduto da Caterina Seia e lei è veramente stata di una generosità unica perché parteciperà non solo lei ma darà anche a disposizione di questo corso tanti materiali che nel tempo sono stati registrati e archiviati ci sono sette workshop in sette punti in sette spazi che abbiamo individuato nel territorio in cui le persone che si sono formate potranno progettare dei possibili progetti appunto relativamente a questi spazi un ulteriore rafforzamento con questo corso di formazione per giovani per ragazzi che fanno funzionare bene i musei che in accordo con le strutture dell'università sono in grado di dare un'offerta molto diffusa nel territorio e poi formare le persone è sempre fondamentale perché è chiaro che per far conoscere il territorio bisogna saperlo raccontare e fare formazione è fondamentale per qualsiasi tipo di iniziativa ieri sera ai musei civici di Pesaro è stata intitolata la sonosfera alla memoria di David Sassoli il compianto ex presidente del Parlamento europeo fu protagonista gennaio 2020 dell'inaugurazione dell'anfiteatro tecnologico per l'ascolto di ecosistemi e musica che ha rappresentato uno dei punti di forza della vittoria di Pesaro capitale della cultura il sindaco e il vice sindaco Matteo Ricci e Daniele Vimini hanno voluto dedicare così la sonosfera ad un grande protagonista dello sviluppo culturale della scena europea rimasto sempre attento a realtà locali come quella pesarese l'intitolazione è avvenuta alla presenza di Alessandra Vittorini vedova di Sassoli e di David Monacchi creatore della sonosfera questa mattina invece il sindaco di Pesaro Matteo Ricci insieme all'assessora all'istruzione Camilla Murgia e al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni ha salutato nella sala rossa del comune i 58 insegnanti della città di Pesaro andati in pensione in questo 2022 ai 58 docenti è stato consegnato un riconoscimento di gratitudine per la preziosa funzione educativa svolta nella loro carriera ieri sera il consiglio comunale di Gabice Mare ha conferito la cittadinanza onoraria a Ivan Cottini primo ballerino al mondo affetto da sclerosi multipla che negli anni ha portato più volte la sua testimonianza a Gabice anni in cui Cottini è stato un costante esempio di tenacia e positività a dispetto della malattia tanto da essere nominato cavaliere della Repubblica per il suo impegno sociale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per Ivan Cottini Gabice Mare è diventata una seconda casa in cui da anni partecipa attivamente alle iniziative del comune volte alla sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità anche per le persone con disabilità domani 14 settembre alle ore 18 nell'auditorium di Palazzo Montani Antaldi di Pesaro verrà presentato il rapporto 2022 a cura della fondazione della sussidiarità a presentare il report sarà il presidente della fondazione Giorgio Vittadini in una serata che vedrà Angela Tringali moderare gli interventi di Lorenza Violini docente di diritto costituzionale all'Università di Milano dei vertici di Confindustria Pesaro Urbino Alessandra Baronciani e Andrea Baroni dell'imprenditore Paolo Camillini del presidente di Xanitalia Franco Signoretti del presidente della comunità all'imprevisto Silvio Cattarina Il Natale fanese strizza l'occhio alla cultura tra le proposte anche una serie di appuntamenti nei musei per riscoprire il patrimonio artistico della città non solo alberi la Testiano la Testiano si apre per Natale alla città e ci saranno dei concerti ci saranno dei laboratori per bambini ci saranno delle visite guidate per gli adulti e per i bambini una serie di iniziative per far riscoprire rinvitare la città di Fano dentro il museo che è un luogo prezioso importante della nostra città questa iniziativa rientra dentro Natale Più in collaborazione con l'assessore Lucarelli e con il resto delle iniziative della città quindi anche il museo doveva fare la sua parte al cuore dell'iniziativa vi è l'idea che l'arte non sia soltanto qualcosa da osservare ma un'autentica esperienza da vivere anche attraverso il gioco grazie alla collaborazione con la Pandolfaccia e alle cooperative Gradara Innova e Meridiana noi abbiamo organizzato come assessorato alla cultura e come assessorato alle biblioteche una serie di iniziative a corollario della mostra sui registri malatestiani che si inaugurerà il 16 di dicembre si tratta di otto appuntamenti che rientrano nel Grand Tour Cultura a cui la regione Marche ci ha invitato a partecipare il titolo di quest'anno è Mettiamoci in gioco quindi un invito a proporre la cultura in tema giocoso ma è leggero ma comunque scherzoso adatto ad essere vissuto da tutti e in primo luogo dei bambini per questo come assessorati alla cultura e alle biblioteche e in collaborazione con l'archivio di Stato abbiamo organizzato questa serie di iniziative che partiranno il 20 di dicembre e si tratta di visite e di laboratori e di visite guidate anche a cura dei nostri funzionari l'arte è anche musica e la musica è anche arte per questo sono previsti quattro appuntamenti con musicisti di primo livello tra gli altri anche il vibrafonista fanese di fama internazionale Marco Pacassoni Termineremo tra la fine dell'anno e l'inizio del mese di gennaio con quattro concerti molto importanti perché vedono per la prima volta la presenza appunto all'interno del museo di strumenti con l'iniziativa appunto a cura del FanoJets Network risuono nei musei un vero e proprio invito al museo dunque a vivere il tempo del Natale probabilmente più rilassato e libero tra le ricchezze del patrimonio culturale fanese che necessitano di un nuovo slancio e di una ritrovata attenzione musica laboratori cultura sono cose che vanno insieme e sono importanti per questo Natale 2022 l'aspetto culturale è un aspetto che definisce chi siamo la storia che abbiamo avuto quindi a Natale è un momento in cui siamo sempre di corsa ma allo stesso tempo apriamo i nostri cuori e siamo attenti è bene ricordare chi siamo è bene anche riconoscere i capolavori che hanno fatto parte della nostra storia quindi vi aspettiamo e concludiamo il nostro telegiornale con altre affascinanti immagini di avvicinamento al Natale oggi il nostro Edoardo Razzi è andato a scuvare un presepe molto particolare questo dolce suono dell'acqua e questo rumore meccanico dei marchi ingegni accompagna avvolge il magico presepe costruito dal signor Mimmo Macchini pensionato e residente a Riosas una frazione del comune di Tavuglia un lavoro artigianale il frutto di anni e ore di impegno cura e passione quella passione che da sempre lega Mimmo allo spirito del presepe e alla felicità che riesce a regalare anni e anni di mercatini natalizi visitati per la provincia fino a quando un giorno di circa dieci anni fa spinto dalla curiosità ha provato a dare vita e movimento a una statuina che aveva in casa da tempo questa è stata la prima per questa l'ho vista non so se è su facebook o qualcosa del genere qualcosa del genere e ora mi sono messo e ho cercato di farla un po' a modo mio e poi dopo piano 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 perché proprio ti prende trasporta questo lavoro e allora ti metti anche la sera piuttosto che il bar o via magari ti rigiù una statuina ti rigiù un po' cosina così e si va avanti piano piano un Natale dopo l'altro il presepe vivente ha preso sempre più forma arrivando a contare ora circa cento statuette tra falegnami panettieri animali e mulini ma anche l'immancabile natività che come in ogni presepe rappresenta il fulcro e colora di significato tutto ciò che la circonda delle numerose statuette la gran parte sono state realizzate da lui a mano utilizzando il DAS una pasta sintetica modellabile alla quale è abbinato anche altri materiali come il legno e il cartone e poi la curiosità degli alberelli create torcigliando del filo di ferro per il tronco mentre per la chioma Mimmo ha ricavato delle foglioline di plastica da un vecchio tappeto la cura dei dettagli e la maestosità di un presepe artigianale di questo tipo sono dei particolari che avrebbero avuto meno rilievo se non fosse tutto regolato dal movimento ripetuto delle diverse statuine ma questo che si deve muovere per tenerlo fermo dice poco allora prova con un motorino prova con un altro poi compra il motorino a 10 giri a 30 giri a 5 giri perché ognuno ha i suoi giri un movimento che viene generato dai fili elettrici che è riuscito a collegare alle statuine e per fare ciò ha dovuto munirsi di un vero impianto collocato sotto la struttura che regge l'intera opera un presepe che il signor Macchini custodisce con cura su uno spiazzale di casa sua dove ad ogni Natale riceve la visita da parte di alcuni suoi compaesani attirati dalle novità che ogni inverno aggiunge all'operato finale anche se finito non lo possiamo mai considerare visto che ogni anno ha in mente nuove idee per quello successivo col materiale che anche che sono già pronto per montare potrei arrivare non diciamo un altro doppio di questo ma quasi la signora che esce da casa vorrei rifare il castello più grande un pochino invece di due uno solo ma più grande e poi come dico ho questo mulino ho parecchie cosine siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma adesso andiamo a vedere cosa ci riserva la programmazione di Rossini TV perché alle 21.20 ci sarà un interessante convegno sul progetto Agri Bio Cons un evento che si è tenuto all'hotel Touring di Falconara Marittima e poi subito dopo avremo la testimonianza e il resoconto di quelli che sono stati 50 anni dei Gentleman's Football Club Pesarese hanno festeggiato questo importante traguardo noi c'eravamo con le nostre telecamere e questa sera ve lo mostriamo e poi domani torna la nostra rassegna stampa quindi vi aspettiamo in diretta sul canale 80 alle 7.20 in diretta anche sul nostro sito rossinitv.it sulla nostra applicazione e anche sulla nostra pagina Facebook adesso vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni vi ringrazio per essere stati con noi buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti